Tutto è teatro, la vita è anche teatro, la vita è solo teatro, non viviamo che di teatro, sempre. Questa citazione esprime bene il punto di vista progettuale e direi anche il carattere di Luciano Baldessari, una figura unica di progettista nel panorama dell'architettura italiana del Novecento. È stato infatti pittore, scenografo e architetto. Ha partecipato al circolo futurista di Rovereto, ha vissuto a Berlino negli anni venti, lavorando come scenografo a stretto contatto con gli ambienti dell'avanguardia espressionista. Ha vissuto a New York negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nella sua attività professionale di architetto, Baldessari ha affrontato tutte le scale del progetto, dal design degli interni agli interventi a scala urbana, dagli allestimenti di mostre, stand e fiere campionarie alla progettazione di edifici. In questa lezione ci occuperemo di due suoi celebri allestimenti museali, entrambi realizzati nelle sale di Palazzo Reale a Milano. La mostra dedicata a Van Gogh è la mostra sull'arte e la civiltà etrusca. Negli anni del Secondo Dopoguerra, a Milano, il neonato ente Manifestazioni Milanesi ha organizzato una serie di mostre di altissimo livello con l'obiettivo di promuovere la cultura italiana, in particolare Lombarda. E non a caso la prima mostra è dedicata a Caravaggio e i Caravaggeschi, alternate a mostre dedicate ai protagonisti dell'arte europea dell'Ottocento e del Novecento, in modo tale da ristabilire, dopo gli anni del ventennio fascista e della guerra, rapporti di collaborazione con altre istituzioni culturali europee. Cominciamo dalla mostra di Van Gogh del 1952. L'oggetto è più importante della messa in scena, dalla quale deve essere esaltato e non sopraffatto. Il visitatore viene guidato dall'ordinamento planimetrico e la visione degli oggetti è favorita, qui per la prima volta, dall'apertura degli angoli. Con queste parole Baldessari descrive in maniera sintetica, ma estremamente efficace, il suo modo di intendere l'allestimento museale. Le contropareti, sovrapponendosi alla geometria originale delle sale, come vediamo in questo studio planimetrico, aprono gli angoli, danno vita a ambienti di forma trapezoidale, creano visuali e prospettive, con una tecnica che deriva direttamente dalla scenografia. I soffitti sono coperti da velari bianchi retroilluminati, da neon bianchi e rosa, che diffondono in maniera uniforme una luce indiretta. E lo vediamo molto bene in questa foto d'epoca, in cui il soffitto è smaterializzato in pura luce, con un voluto effetto scenico. Tutto l'allestimento è poi basato sul dialogo fra le opere esposte, in particolare quando si tratta di riproduzioni, e le accese campiture cromatiche delle contropareti dei pavimenti, che Baldessari studia con la tecnica pittorica del collage. Seguiamo insieme il percorso della visita. La sala di ingresso è caratterizzata da un'esplosione cromatica, che rimanda direttamente ai colori dei quadri di Van Gogh, immergendo subito i visitatori in un'atmosfera coinvolgente e suggestiva, che possiamo apprezzare in questa ricostruzione in 3D. Al centro domina la tarsia pavimentale, disegnata da Tiglio Rossi e ispirata alla forma del girasole. Il pavimento è interamente rivestito in vipla gialla, un materiale all'epoca innovativo a base di resina, e la parete frontale è lasciata vuota. Lo sguardo viene così subito spinto lateralmente. Da una parte è esposta una sequenza di riproduzioni fotografiche di disegni di Van Gogh, mentre dall'altra si trova una vetrina disegnata da Ico Parisi, che ospita documenti bibliografici e fotografie. Qui vediamo lo stesso ambiente in una fotografia d'epoca in bianco e nero, e ancora in uno schizzo prospetto di Baldessari, che con un punto di vista molto alto studia la conformazione dello spazio, dalla geometria delle contropareti al disegno del pavimento. La vipla era già stata utilizzata da Baldessari l'anno prima nell'allestimento dell'attrio del Palazzo dell'Arte in occasione della nona triennale. Un pavimento in vipla viola prugna, con una tarsia, ancora di Attiglio Rossi, in collaborazione con Mario Radice e Attanasio Soldati, che fa da contrapunto ai tagli a soffitto di Lucio Fontana. Nella seconda sala il pavimento è diviso diagonalmente a formare due campiture di gialli diversi, come vediamo nella ricostruzione 3D, e orienta immediatamente l'attenzione del visitatore verso l'autoritratto col cappello, la prima opera originale esposta in mostra. Sulla parete di fronte si trova un'altra vetrina, retroilluminata, disegnata da Ico Parisi. La terza e quarta sala sono ricavate in un ambiente unico e le due contropareti sono raccordate con un angolo smussato. Le sale successive sono in sequenza visiva fra loro e il percorso di visita è sottolineato da una sequenza di passerelle che ricordano quelle disegnate nel bozzetto modernità del 1925. L'allestimento di Baldessari coinvolge anche il bar, caratterizzato da colonne, capitelli, specchi sontuosi, con un pavimento in vipla blu metallizzato, pareti con intonaco blu, cuscini colorati nelle sedute, vasi con tulipani sui tavolini. Insomma, tutto suggerisce l'idea di una continuità spaziale fra le sale di esposizione e gli spazi di ristoro, mantenendo quindi i visitatori sempre nella stessa atmosfera, in una logica immersiva molto attuale. La dodicesima e ultima sala ha una funzione di epilogo. Una sequenza di pannelli, concepiti come quinte teatrali, compongono una parete curva dall'andamento seghettato e creano una sorta di abside con un forte impatto visivo. Un disegno che si ritrova anche nella scenografia del vascello fantasma, opera teatrale di Lothar Richter, rappresentata al Teatro Olimpia di Milano nel 1928 con la regia di Tatiana Pavlova. In questo bozzetto le quinte laterali sono tra loro sovrapposte a creare una sequenza visiva che costruisce lo spazio scenico. Baldessari individua nella composizione della sala un punto di vista centrale, come si vede in questo schizzo, dove si pone l'ideale spettatore che da questa posizione con un solo sguardo stabilisce un rapporto diretto con tutti i nove autoritratti, riprodotti e impaginati in un formato unificato. È come se l'attore Van Gogh, nelle sue molteplici fasi della vita artistica, tornasse sul palco per gli applausi finali. Grazie per la visione!